Un abbraccio virtuale, affettuoso e grande a tutti gli studenti e le studentesse che oggi ci stanno seguendo, stanno malutando la possibilità di essere a breve studenti Unicam. Noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo costruendo dei percorsi formativi di grande qualità, dei percorsi formativi che faranno di voi domani quegli attori importanti, quegli eroi, quei supereroi, grazie ai quali la nostra società sicuramente sarà migliore. Noi cercheremo di presentarvi in questi giorni attraverso i nostri portali le nostre eccellenze, vi mostreremo quei settori, quelle discipline che sono assolutamente strategiche per l'Italia e per l'Europa e cercheremo di farvi vedere il contributo di Unicam a quelle discipline. E soprattutto però voi sarete per noi non dei numeri, sarete delle persone con le quali poi noi continueremo questo percorso, anche dopo, anche quando vi sarete laureati, vi continueremo ad assistere, vi continueremo a formare, continueremo insieme a voi a produrre benessere per il Paese.